Bologna Inside, Itaca, migranti e viaggiatori, festival del turismo responsabile, ti spieghi cos'è? Itaca, come diceva lei, è il festival del turismo responsabile, Itaca rimanda a un viaggio lontano, un biglietto di sola andata come era per Ulisse, invece Itaca in bolognese significa sei a casa e per noi il turismo responsabile è questo, forse magari rimanere a casa propria ed essere responsabili o forse fare dei viaggi lunghi come metafora della vita, abbiamo organizzato 9 giorni, 150 eventi, oggi siamo in chiusura, oggi è domani, chiuderemo appunto con uno spettacolo dell'ITC Teatro oggi alle 5 e mezza, domani abbiamo anche delle maratone con coach surfing, una maratona di letteratura femminile, domani alle 12 saremo qui in piazza dove ci sarà Vinicio Caposella a presentare il suo ultimo libro, Tefteri e poi appunto vi daremo appuntamento al prossimo anno per la sesta edizione. Quindi voi fate ogni anno questa cosa? Ogni anno, questa è la quinta edizione. E invece se ci vuole iscrivere e trovarvi dove devi andare? Va sul sito festivalitaca.net dove ci sono tutti i nostri appuntamenti e dove appunto è possibile partecipare ai diversi itinerari. Ok, grazie. Grazie a lei.